Non avevo capito nulla, nulla. Voglio che si sappia che io oggi te in buona fede. Ebbi l'impressione di aver scoperto un servizio sociale clandestino. C'è una cartellina in particolare che è sopra scritto. Partella sociale di Ignazio Villani. Sì, lo conoscevo. Avevamo lo stesso commercialista all'epoca. Lo Stato non poteva rinunciare ad Empathy. Mi sono trovata benissimo. Non poteva perdere la sua credibilità. Non ci saremmo mai immaginati che saremmo arrivati a questi livelli. Empathy era il nuovo welfare. Sono tutte quelle macchinette che hanno messo in ogni angolo della città. Ma...